Ottavo anniversario, stiamo con Joel Non ci posso credere Non ci posso credere che ho delle stone, più che altro Quante stone hai, esattamente? 250 stone precise Anche uno sforzo per lui, perché lui ogni volta che ha 5 stone fa singole Faccio partire a te perché sei l'ospedale, dov'è che vuoi andare tu? Io? Allora, il Bussandra, perché mi serve il gamma 1 Più che altro, solo per quello 3, 2, 1, via Oh, oh, oh Sì, non si può più! Sì, non si può più! Guardi io, guardi da! Oh mio Dio Ecco, vedi, è stato la spiega Non mi capisco, vabbè, è il banner, penso che l'abbiamo capito Ok, niente Pensare che è l'ultimo PG Nooo Chi è? Che è? Quello così? Sì Ah, lo so È un deja vu, è un deja vu C'è un altro che ha fatto lo stesso video, è uscito lui con la stessa animazione Un altro youtuber Whis, così esce Whis Ah, c'è Beerus Sono Beerus, però Allora, se fa Super Saiyan 3? È base form Quindi c'è un crack sicuro Sì C'è un crack No, quindi niente Whis, ok, vabbè Peccato, quindi niente Ho un SSR, però Ero finito, non mi ha dato niente Ah, vado io allora Mi cacciò la docca, no, aspetta Riuscite a 15 e 18, giusto? Sì, Super Saiyan si è trasformato 1, 2, 3 Oh, c'è un SSR, venga il dito Pazzesco Ci ricordo che potrei avere fortuna Cioè, nel senso, spero di no Dillo, perché si è incazzato ancora con me perché ho shoppato Ecco, qua c'è Cosa hai shoppato? Con i coin Goen è piccolo Noi tutti e due li ho shoppati Ah, mille coin Ah, è Golden Vizzerangelo Su STR Sì C'è un sacco di persone, quindi niente Forse c'è No, nessuno Nessuno? Ho ugualità con Race Rainbow, però Attenzione Quindi banner Ho ugualità? Banner in teoria, sì Last PG Last PG Non so che è probabilmente la Last PG Oppure No, l'hai trovati? Il mio gemello Il gemello che l'ho trovato io Oh, un altro Ah, se ti faccio così, che succede? Vado Cioè Krilin è piccolo, era una qualcosa? No Solo uno Super 6 è uno Niente Ma guarda, la schifo proprio Eh, mi sa che devi ritornare a fare le singole Ho un altro 17, però questo qua, la GL l'ho trovato ora Ah, quindi puoi farti il team La collezione La collezione Eh, C17 AGL No, non si è trasformato È la Vegeta Eh, vabbè, non mi ha forza Eh, ho capito, però Uffa Eh, non sei Joe L02 Ti ricordo Speedrun anche io Sì? Niente Oh Ottone AGL Buono 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 Vado Ma un bel Blackkript Da quando è che non esce Blackkript? Dal film di Broly Da Commodore Super Broly non esce Goddard e Trunks Goddard e Trunks Oh E non ho fatto niente in realtà Super Saiyan 2 Ho trovato Bota Magetta Goddard Uffa GL Mi sa che sono SSR SSR Che schifo Ti devo dire Che posso avere fortuna Ti ricordo Mira Sembra quello di prima Di XM Sempre mira Allora Sto dicendo Che io L'unica volta Ho trovato Il Blackkript Che è uscito Era in singola Là Su quel letto Là No Là Esatto In singola Nel banner di Broly E Gogeta GL Se non mi sbaglio Io parto Perché non voglio commentare Vabbè Sei zitto Oh Satansunbu E un altro Vegeta Un altro Vegeta No Ti prego Oh no Vegeta Il torneo del potere No Su questo non è voluto Che schifo Non lo voglio Eh cici Vabbè Vado Virus Chozu E Trunks Release Rainbow Con l'Hits Capacchi Cada Super Saiyan 1 2 3 Golden Freezer Tech Final Form Mangelo 3 SSR L'abbiamo capito Guldo 19 Android 16 Golden Teen Ma sono tutti SSR No tutti R Ah allora che cosa me lo dici a fare Oh oh Black Death Nel Tarabata Con la GL Vado io Faccio una multi Nei Nei GT Comunque secondo me Sei tu che mi porti sfiga Sì sì sicuro Ho trovato Tanks e Vegeta In un singolo Tre volte Posso essere sfigato Ma era palese Già avevamo detto Il fatto che sono Troppo fortunato prima Niente Piccolo clone C'è Vegeta C'è Whis E c'è Fio 18 Dai Blue 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 Sono loro in teoria Giusto? Dovrebbe essere un LV Che è un tagantino Lo so in realtà Ma è alla fine Proprio l'ultimo Oh Loro Allora Sarò buoni Non ce ne avevo Non li avevo Comunque Ok Comunque veramente Gli ultimi figi erano Allora Poteva andarmi meglio Mi poteva dare il GT Ok Io faccio una sui z Per Revit Sì sì Vado Io ho 75 stone Mi si diviangono 75 Quindi faccio Anche tu? Non ci credo Anche tu? Ho qualità Ho qualità? Dai aspetta No Peccato Perdiction Perdiction Sono per tre scommesse Dammi gamma 1 Gamma 1 Mi so Anche se Tu volevo dire gamma 1 Io Ho il God forse No Il God pure Mi sta in realtà anche bene E che abitiamo 1 Non posso Nessere test SR Vero? Sì Sì Converso Sì Gamma No 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 Le trovate Prima di me Le trovate No Ma queste qui non le ho trovati con il blu e tu le hai trovati con quello normale Non vale Dai vai Cioè ma dovrebbero nel farmian? Ah io sto skipando perché Proprio Brole a gelia del film Andiamo ai GT vediamo se mi danno un bel gamma 2 E dai C'è un po' C'è un po' No No dai No No Non vale Perché non l'ho trovato io Non vale L'ho sentito Vai Ora trovo i GT Ora trovo i GT così anche Ma Ti devo dire Sono i GT questi Sono i GT tranquillo Sono tranquillo Sono i gamma 2 Io sono più contento No io voglio gamma 1 volevo Ti hai trovato? No Vabbè allora loro Ci sono i GT full adesso Però No Ah vabbè Uffa Vabbè io ho trovato almeno Goku e Vegeta quelli là che non sono male comunque Chi Ah vabbè Vado? Ok io penso di aver finito Sì Quelle spawn Quindi vado Sono Goten Zeno Anche Zeno Super Saiyan 1 Goku fisico Vabbè io mi faccio una multi sui ticket dei Z Tanto per il meme Per Mila Cooler Magari Venti in più per farmi almeno un altro giro su Vecito in 2? Ma? Che ti dici? Così Non c'era Vegeta Non c'era Grillin e Trunks L'hai trovato? L'hai trovato? L'hai trovato? L'hai trovato? Cooler L'hai trovato Cooler? No L'ho detto sì Zoom Ma quando ce l'hai? A BD1? A BD1 Che palle E rivedete anche finalmente Allora Io non vorrei flexare lui Trovato in singola Allora penso che quindi Allora Io vedo un'altra multi Però me la faccio in privato E ci vediamo al prossimo vlog Video Che possibilmente sarà quello Con me Con zombie Con lui Con Joel Perché ovviamente Slittato Per uscire questa settimana Però È dal universo di Locan Diciamo che È un po' più importante Non siamo Cioè non siamo Con due Webcam Separate Cioè siamo Nella stanza Per la prima volta Quindi che dire Buonanotte È stata una bella Sessione di Pool Mi raccomando Recuperate Tutti e due i video Non so quale Fa uscire prima Però avete capito Ciao 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 Grazie a tutti.